Oggi è la santa giornata di Pasqua, sono molto curioso che cosa mi ha portato il coniglietto Pasquale andiamo a scoprirlo insieme, lo so che mi hanno preparato una chicca ma andiamo a vedere di che cosa si tratta Ragazzi non potete capire, la casa di carta, la casa di papel, veramente una serie che ho amato L'ho vista tutta di un fiatto, cioè il professore mi ha mandato il suo pacco Andiamo a vedere che cosa sta all'interno, io comunque l'ho già aperto, ora vi faccio vedere a dire la verità Il cioccolato è buonissimo, quindi balocco complimenti Andiamo a vedere che cosa ho trovato lì, non potete immaginare, cioè non potete immaginare proprio Raga ma quanto è bello il lingottino, ma quanto è bello il lingotto, cioè è fantastico Non so se si vede alla camera però c'è anche l'incisione, c'è anche l'incisione Proprio con la scritta la casa de papel e con il logo praticamente di da lì, cioè è veramente fantastico Una sorpresa, una sorpresa veramente bella e non me lo aspettavo a dire la verità che trovassi proprio il lingottino Pensavo sai la solita cartolina, la solita figurina di gomma di uno dei personaggi Invece ho trovato il lingottino d'oro della casa di carta che loro stavano fondendo Per trasformarli in piccoli chicchi di... ovviamente chi ha visto la serie lo sa, penso tutti voi Ora docciato, andiamo a vestirci Ci siamo Beh ragazzi, ora in conclusione vorrei riprendere un pochettino il discorso del video precedente Non so quanti di voi l'avete visto Però siccome, a dire la verità, avevo perso un pochettino la fiducia la settimana scorsa Per tutto questo periodo passato dei video che ho pubblicato su youtube e sulle altre piattaforme Stavo decidendo a dire la verità che piega a prendere questo canale Cioè se pubblicare oppure no dei video, dei contenuti Però siccome è ciò che amo fare, ho deciso di continuare Ovviamente il canale cambierà la veste grafica perché ormai sono più o meno sette anni Da quando ha lo stesso logo e la stessa cosa Quindi cambierà la veste grafica e il canale E inizieremo da domani con i nuovi format praticamente Dove vi farò vedere anche in ciò che mi sto imbattendo in questo periodo Oltre alla lettura e le varie cose che già sapete Un piccolo spoiler, si tratta di programmazione in python Io mi voglio avvicinare il più possibile a questo mondo E voglio iniziare a prendere piede il più possibile E diventare praticamente a un livello abbastanza advanced Per quanto riguarda questo mondo qui Quindi tranquilli Sarà una comunicazione Molto probabilmente oggi pomeriggio Voglio fare una live con voi Non prometto niente però ci sarà Dove vi spiegherò praticamente più dettagliate le cose che voglio fare Dove vi mostrerò anche di cosa vorrò praticamente occuparmi in futuro Ok? Quindi buona Pasqua a tutti Auguroni a tutti voi e alle vostre famiglie Grazie per la visione Grazie per la visione